In questa puntata Il Consiglio regionale approva il bilancio 2022 Approvato il bilancio 2022 della regione toscana dal Consiglio regionale per una manovra da circa 11 miliardi L'approvazione a maggioranza ha riguardato più atti che sono stati approvati dopo una lunga discussione preceduta da un flash mob di protesta dei partiti di centro-destra del Consiglio regionale della Toscana per dimostrare la loro contrarietà alla manovra di bilancio Tra i numerosi atti collegati alla manovra e approvati dall'Aula anche un maxi emendamento della Giunta Un bilancio che, se lo dobbiamo definire in poche espressioni, è nella sua parte corrente un bilancio sobrio perché è il momento di non esagerare nelle spese ma invece di mantenere un contenimento non tagli ma sobrio e contemporaneamente che guarda nella parte degli investimenti al futuro con forte capacità di investimenti. Sarà grazie a questo bilancio regionale che avremo la tramvia Bagnarripoli 70 milioni che abbiamo messo Sarà grazie a questo bilancio regionale che avremo opere di difesa del suolo per circa 80 milioni comprensive poi anche di quello che è il contrasto a interventi di erosione sulla costa Avremo grazie a questo bilancio 60 milioni sulla sanità ulteriori a quelli che sono le risorse dei fondi strutturali e del PNNR Ma avremo anche sulle riqualificazioni urbane 15 milioni che aiuteranno agli interventi di qualificazione nelle singole realtà della Toscana 55 milioni sullo sport dove concentreremo l'attenzione sulla possibilità di supportare l'anno scorso l'abbiamo fatto per 56 comuni altrettanti comuni dei 273 della Toscana Inizieremo la politica della costruzione dei centri sportivi Pegaso Il primo impianto Pegaso sarà la piscina e San Bartolacintoia proprio qua a Firenze ma che avrà un'utilità regionale Circa 15 milioni su interventi nella strutturazione della cultura e naturalmente sulla scuola dove ci sono 12 milioni ma sono complementari a quegli interventi addirittura 33 interventi scolastici per una cifra superiore a 70 milioni che derivano dal fondo di coesione Bilancio importante perché scongiura l'aumento delle tasse anzi in questa manovra è una manovra espansiva noi facciamo maggiori investimenti sulla cultura e in più azzeriamo l'IRAP per tre anni alle imprese nuove imprese verranno ad investire nelle aree di crisi industriale o nelle aree interne un bilancio che recupera quella piccola criticità iniziale relativa al fondo sulla disabilità e rilancia mettendo più risorse a disposizione la Toscana è terra dei diritti la Toscana è terra che non lascia indietro nessuno abbiamo deciso anche come Consiglio regionale ci tengo molto a dirlo di chiedere alla Giunta il sostegno per digitalizzare tutti i nostri lavori questo che vuol dire maggiore trasparenza i cittadini entrano in Consiglio regionale e noi costruiremo le condizioni perché sempre di più questo luogo il Consiglio regionale diventi la casa delle Toscane e dei Toscani è una manovra che tiene insieme i valori e la tradizione della nostra regione con la capacità di sapere innovare noi naturalmente esprimiamo un fermo voto contrario tanto nel metodo quanto nel merito un metodo che ha visto sostanzialmente tagliate fuori le opposizioni dalla garanzia di un qualsiasi approfondimento istruttorio in particolare per quanto riguarda il famoso maxi emendamento di fatto siamo di fronte ad una soluzione che è di compromesso per tutto quello che era emerso diciamo le difficoltà della maggioranza di questi giorni a trovare la quadra rispetto a un quadro finanziario che sì è vero ha delle difficoltà difficoltà ben note i fondi europei che ancora devono arrivare minori entrate per 160 milioni però di certo ci aspettavamo forse qualcosa in più quantomeno sotto il profilo della programmazione in realtà ci ritroviamo di fronte a una serie di provvedimenti che appunto nel tentativo di tenere insieme i vari appetiti territoriali ci propongono anche di fronte appunto a questo famoso maxi emendamento che di fatto si risolve in uno spostamento non tanto significativo nelle cifre ma significativo perché si va ad attingere a quel fondo di riserva che di fatto è il nostro cuscinetto a garanzia di quella copertura del disavanzo sanitario che appunto è la vera partita che poi dovremo giocarci nei prossimi mesi quindi andava adottata molta cautela in realtà questa cautela c'è stata fino a un certo punto finché appunto gli appetiti dei territori non si sono manifestati un bilancio 2022 della regione toscana che viene approvato mediante una maggioranza che si ritrova compatta partito democratico italia viva insieme al proprio governatore gianni dando una risposta importante alla toscana questa è la mia soddisfazione principale abbiamo condiviso ogni passaggio partendo da una imposizione fiscale che rimane inalterata era la nostra battaglia addizionale irpef e bollo auto non sono state aumentate per di più c'è la riduzione importante dell'ira per le nuove imprese che investono nelle aree di crisi si trovano le risorse per la cultura per lo sport per le infrastrutture pensiamo a 150 milioni di euro di nuovi investimenti si guarda verso il futuro se pensiamo anche alla richiesta di progettazione della siena chiusi un'innovazione straordinaria sul raddoppio sull'identificazione di questa tratta ferroviaria per arrivare a fare interventi a favore dei comuni sui teatri sulle scuole pensiamo ai fondi per finanziare le scuole per tutti quei progetti che sono in corso e che sono bloccati a causa dell'aumento dei costi un nuovo sistema di risalita degli impianti della toscana investimenti sulla neve investimenti che riguardano anche la difesa del suolo la cultura ma soprattutto la rigenerazione urbana e l'assetto viario della nostra regione quindi la soddisfazione di Italia Viva è forte perché soprattutto si approva un bilancio ma soprattutto la maggioranza si ritrova e si riscopre molto compatta unita e sarà un anno importante per quanto riguarda la regione toscana è un bilancio nettamente insufficiente il presidente Gianni lo ha definito work in progress va bene work in progress ma qua siamo di fronte a un bilancio in cui il venerdì ci viene raccontato che si stanno accantonando 50 milioni di euro per far fronte a eventuali mancati rimborsi sulle spese sanitarie covid da parte dello Stato e poi il martedì successivo nello stesso fondo che era intoccabile si va ad attingere e si prendono 3-4 milioni per accontentare le richieste del Partito Democratico un po' a destra un po' a manca c'è un fondo di garanzia si l'unica cosa è stata garantita sono le richieste del Partito Democratico poi un bilancio fatto di rinvii tutte le opere strategiche per la nostra regione rinviate agli anni a venire penso una su tutte il porto di Livorno il presidente Gianni ci racconta che questo sarà l'anno in cui finalmente sarà realizzata Darsene Europa ma i soldi per Darsene Europa vengono messi vengono spostati dal 2022 al 2023 il raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Lucca invece che quest'anno il prossimo anno le piste ciclabili, la manutenzione delle piste ciclabili ogni giorno la sinistra si riempie la bocca di mobilità sostenibile di green, di risparmio energetico e poi i soldi per la manutenzione e lo sviluppo delle piste ciclabili della Toscana rinviate addirittura al 2024 quindi è un bilancio nettamente insufficiente un bilancio che nasce in un contesto ancora di incertezza perché da una parte sappiamo che la Toscana esce come tutto il paese dal periodo dell'emergenza sanitaria c'è stato un rallentamento dell'economia e quindi si sono verificate minore entrate ma c'è anche un'incertezza che viene da un quadro normativo non ancora definito a livello nazionale perché non è stata approvata ancora la manovra finanziaria ma ciò nonostante la Regione ha voluto dotarsi di un bilancio per affrontare quelle importanti sfide che l'attendono nel 2022 da una parte i fondi del PNRR e dall'altra l'apertura del nuovo ciclo di programmazione comunitario 2021-2027 occorreva garantire la continuità dell'azione amministrativa e con questo bilancio lo facciamo un bilancio che indubbiamente risente in alcuni settori di una serie di inevitabili decurtazioni di risorse ma che vuole ancora investire in alcuni settori strategici per l'economia e la società toscana da una parte le politiche giovanili e lo sport dall'altro il tema dei trasporti del diritto alla mobilità fino ad arrivare all'ambiente tutti i settori che assieme alla cultura escono da questa manovra finanziaria con un incremento notevole di risorse l'auspicio è che con le risorse che arriveranno nel 2022 e le importanti tappe che caratterizzeranno la revisione dei conti anche nella nostra Regione si possa dare una risposta efficace in tutti i settori di intervento dell'azione di governo della Regione Toscana Oggi abbiamo fermamente votato contrario e anche sottolineato le cose che non andavano in questo bilancio un bilancio dove non c'è sviluppo un bilancio senza investimenti ma è un bilancio prevalentemente fatto di tagli e di tagli a cosa? di tagli a quello che è più di prezioso per quanto ci riguarda la famiglia, la disabilità, la non autosufficienza un bilancio che taglia 18 milioni di euro per le cure sulla SLA un bilancio che taglia 9 milioni di euro per la non autosufficienza un bilancio che leva addirittura 20 milioni di euro al turismo lasciando al turismo soltanto 7 milioni di euro un bilancio che toglie 130 milioni di euro agli investimenti e alla competitività del nostro territorio ma è un bilancio che mette invece 24 milioni di euro alle saghene, alle rievocazioni storiche, ai tagli del nastro ecco c'era una volta la legge mancia questo è il bilancio del taglio del nastro siccome noi pensiamo in un momento difficile come questo in un momento di risorse scarse noi dobbiamo concentrare le risorse su provvedimenti che hanno a cuore la famiglia che hanno a cuore la valorizzazione del nostro territorio lo sviluppo delle nostre imprese il sostegno alle nostre attività commerciali in queste voci non c'è niente questo bilancio è un bilancio che non parla ai distretti industriali non c'è una politica dei porti non c'è una politica di valorizzazione del tessuto commerciale ecco è un bilancio che non ha non solo una logica ma è un bilancio senza visioni i bilanci non sono fatti soltanto di numeri ma sono fatti anche e soprattutto di strategie questo è un bilancio privo di strategie per la Toscana e ancora una volta a pagarne le spese saranno le famiglie toscane e le imprese toscane ed è stata coniata dal Presidente Gianni un'espressione che per quanto possa apparire colorita è preoccupante da un altro punto di vista il bilancio in itinere che è niente più che un modo elegante per dire che in Toscana si vive alla giornata su molti progetti si vive alla giornata e si riducono al minimo i bilanci di alcuni assessorati fondamentali che potrebbero trovarsi all'improvviso se per caso i soldi dell'Europa non dovessero arrivare per una qualunque ragione a dover sospendere servizi erogazioni di qualunque tipo pensiamo alla sanità ma anche alle scuole al dissesto idrogeologico pensiamo ad esempio per dire alcune cose che sono inspiegabili 500 mila euro per un'azienda legata alla Louis Vuitton insieme a altri 5 milioni che sono stati dati dal governo quando poi si pensa a tagliare i progetti di vita indipendente che solo all'ultimo sono stati ripresi oppure pensiamo ai 10 milioni di euro a Toscana Aeroporti dello scorso anno per poi trovarsi a fare 30 milioni di tagli nel settore di turismo quest'anno ecco questo modo di procedere ci preoccupa molto perché non ci fa intravedere una strategia da parte non dico della giunta perché so che alcuni assessori hanno delle idee piuttosto chiare su ciò che va fatto ma sicuramente attribuirà la responsabilità al governatore per le scelte politiche e all'assessore al bilancio per quanto riguarda le scelte finanziarie questo bilancio si arricchirà e si integrerà con l'arrivo dei nuovi fondi europei e con quelli del PNRR che saremo in grado di catturare è una monovra che contiene molti investimenti che parla alle esigenze della Toscana dei suoi territori e anche delle sue comunità che come Partito Democratico e come maggioranza in collaborazione con il Presidente della Giunta abbiamo inteso anche arricchire integrare e migliorare vorrei da questo punto di vista ricordare il fondo per le progettazioni a disposizione dei comuni e dei consorsi proprio per catturare attraverso i progetti i fondi del PNRR vorrei ricordare l'attenzione nei confronti della montagna e dei comuni disagiati con l'incremento dei fondi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti